buonasera e bentrovati agli amici di ab magazine è appena arrivato questo pacchetto berlino leggo ebbene sì questo è il programma della berliner filarmoniker ma la cosa interessante è questo questa è l'ultima pubblicazione dell'etichetta della filarmonica di berlino che offre la sesta di cecoschi diretta da kirin petrenko da questa stagione si avvia a pieno titolo la stagione direttoriale del nuovo general director e questa è la sua prima testimonianza discografica la sesta di cecoschi era già uscita in video la trovate sul sito della digital filarmoni ma questo è un super audio cd cd due canali cinque canali e qui troviamo la il codice per il download dei file 24 192 pcm alta risoluzione spettacolare esecuzione l'abbiamo già ascoltata la prima copia di questo disco è arrivata e l'ho offerta in dono ad un caro amico grandissima interpretazione notevole forza espressiva della filarmonica di berlino ancora una volta ma petrenko si dimostra veramente un grande direttore a presto e buon ascolto